Coraggio, ditto 1 e 2. Trasformazione! Ricorda che devi schivare o bloccare la mossa dell'avversario e usare correttamente la tua. Queste sono le regole base della lotta. D'accordo! Forza! Cerca di farli attaccare contemporaneamente! Va bene, ditto 1 e 2. Ora usate Martel Bugno! Perfetto! Adesso è il nostro turno! Dagli una doppia razione di Martel Bugno! Scusa! Bloccatelo! Potete farcela! Brava! Continua così! Ehi! Che cosa succede? Siamo noi a bordo del nostro pallone gonfiato? Vi tendiamo il solito agguato! E il vostro gruppo è fregato! Il Team Rocket! Ma non potete lasciarci in pace? Vi prego! Ridatemi i miei Pokémon! Commovente! Che peccato! A noi non ce ne importa niente! Addio, gente! Non così in fretta, Su! Vai, Pikachu! E va bene! Si va il veru da nube! Vai! In Egitto! Staraptor! Trova il Team Rocket! Benissimo! Diamo un'occhiata alla nostra coppia di Nitto! Fuori, piccoli! Oh, cavolo! Miau! 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 Un trio di miau? Ma quale sarà il nostro? Miau! Miau! Fantastico! Siamo punto a capo! Miau! 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 waveform! E adesso c'è un trio di Wobbuffet! Urca, mi è capitato di vederci doppio, ma triplo è la prima volta! Suggerisco di spedirli tutti e tre al capo e di non pensarci più! Mi scusi tanto, signore egoista, ma si dà il caso che Wobbuffet sia il mio Pokémon? Ehi, Dean Rocket, li abbiamo beccati! Ditto! No, ci mollano! Tornate qui! Grazie al cielo, state bene! Mi sto quasi commuovendo, piantatela! Quei ditto diventeranno nostri e ci schiuderanno la porta del successo! Sì, certo, continua a sognare! Vai, pintaci! Lascia che siamo noi a batterci, Ash! Ma, Riri, tu... Bene, vai e sforzati di fare del tuo meglio! D'accordo! Non sottovalutate mai la potenza di Carnivine! Oh no! Dannazione! Allora, Carnivine è un tipo erba! Già, quindi usa dei tipo volante! Va bene! Forza, ditto uno e due! Trasformazione in Starhawk! Grande semitraglia! Schivalo e usa aerosolto! Forza, si va e parta con te! Contrasta il tipo veleno con una mossa tipo terra! Forza, ditto due! Trasformazione in Gible! Adesso usa fossa! Bene! Ditto uno usa attacco rapido! E ora coordiniamoci e usiamo tutti i fulmini! Va bene! Trasformazione in Pikachu! Un fulmine triplo è decisamente troppo per noi! Sì, un Pikachu solo era già più che sufficiente! È un'esagerazione! Immaginate affrontare dei tripli bambocci! Dovremmo urlare per ben tre volte! Stiamo dai con l'alto di Corona!